Gesù Cristo 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 Il errore di loro, la scuola di loro è un po' e due forza, lo scuola di loro, di loro, di loro, di loro, di loro, di loro, di loro. Scusi, non si non ci vuole, perché non ci sono a scuola, non ci sono a scuola. Gesù suoniamo alla fine, sic troppo non c'è Noe, sono a scuola, non è un po' e su, non ci siamo, ci siamo, a venenitza a te. Aze no e venenon zo venitza guachi, gici no e venenon zo venitza pisi. Aze no no cintilaci e venenon zo venitza xelo, venon zo venitza pisi, por lo che non zilige, venon zo venitza pisi, sticcia ata diuse. Pero venon zanitza pisi, non cano zananitza pisi, perché? Nizza pisi naca per il Signore Jesucristo. Jesucristo non zilige, da por lo che non vieta a Jesucristo, e ce l'ho la venguti por peccato. Jesucristo ori sofriri porli, e o racino quina la Jesucristo lo cruz calvario, ti vi Jesucristo naca salvador divino, para venenon zanitza pisi. Venenon zanitza pisi, a zuji qui lo niton guando. Ata diuse a yurke, no zuji qui venenlo niton, orice venenon guaijiliu. Venenon zanitza nivini, non cano a jiquinu gati, porque ci nugati, o zanineco e rano il Espiritu, ranziaco no ata diuse le neve. Porque ci nugati ura, yukwa kuenda ura stuku y vida ta vi. Aze no ha jiqui ura nu gatiu ura, porque ci nugati ura, riña ura dinzukua a Jesucristo, kono ata diuse le neve. Ci nugriña ura le neve, zekio ura lo Jesucristo, porque Jesucristo guanichi uzachu na wicha. Venenon zanariña uanitza pisi. Karnianus zanavayenaka pekado, no sujikiva lo ata diuse le neve. Tiene kienun nako a perdon lo ata diuse le neve, porque ata diuse ni nekwe ye na kashkia. Jesucristo nguti lo cruz calvario sobre pekado lia. Ni tukui obra no ria a nagagueño, solamente obra no ri Jesucristo nagagueño delante lo ata diuse. Asi es que no kono dinzu uarkia, ci ligia Jesucristo. Dede ne naka kristo a jesus juana hasta chino gatia. Ti vi kristo a jesus naka salvador. Ti vi kristo a jesus naka salvador.